In volo con voi è un salto, è voglia di essere... Coach Cuttini, una sfida con Verona, Padova sempre vicina, però cos'è che ha avuto oggi di più Verona? Beh, Verona è una squadra che a cui livello conosciamo benissimo, sapevamo già, avevamo messo in preventivo che sarebbe stata una partita difficilissima, soprattutto in questa fase, in questa fase dove i nostri obiettivi sono chiari, sono quelli di far giocare anche i ragazzi che hanno giocato meno durante la stagione, quindi le configurazioni dei sestetti cambiano ogni tre giorni e quindi è una complicazione che sto creando un po' ai nostri ragazzi per dargli anche comunque la possibilità di trovare dello spazio e di cercare gli equilibri in campo, ogni tanto ci riusciamo, ogni tanto no. Oggi sono stati molto bravi loro, soprattutto in ricezione, a permettere a Spirito di giocare a un bellissimo livello di pallavolo, noi siamo andati un po' a inseguire, di buono c'è che i ragazzi nostri, sempre sotto, sempre in difficoltà, hanno cercato di non mollare, hanno cercato di trovare delle soluzioni e in qualche modo ci stiamo togliendo qualche soddisfazione, anche con i ragazzi ribadisco che durante la stagione hanno giocato un po' meno.